Buonasera, oggi si è riunita la Commissione Cultura del Consiglio Comunale di Milano in presenza di nuovamente dell'assessore alla cultura Stefano Boeri che ha voluto rispondere alle osservazioni mossegli nell'ultimo incontro in particolare vi segnaliamo 4 punti il primo è quello dello sportello unico era stato chiesto se sarebbe stato possibile creare uno sportello unico per tutte le licenze che gli operatori della cultura e dello spettacolo devono chiedere per organizzare i loro eventi è una cosa a cui si sta lavorando la riunificazione logistica è già avvenuta nella scorsa giunta quello a cui si può ulteriormente si sta lavorando e si cercherà di fare è ridurre i tempi tra la richiesta di un permesso e la risposta e la possibilità di creare un protocollo comune e la creazione di tutor interni che indicano all'utente e agli operatori dei percorsi rapidi è difficile creare invece una licenza unica proprio perché ci sono responsabilità che ricadono sotto i diversi settori per cui non è possibile creare un unico ente responsabile la seconda domanda era quella su Palazzo Dugnani che è un palazzo storico nel centro di Milano dove ci sono i giardini montanelli era stato chiesto siccome l'ultima giunta la giunta Moratti l'aveva destinato alla moda è un palazzo storico inutilizzato però era stato destinato alla moda mentre sembra che invece sia l'attuale giunta abbia deciso di non destinarlo più alla moda ma di creare insieme al planetario un museo di scienze naturali che sono sempre nei giardini pubblici creare un sistema, un polo a carattere scientifico il terzo punto è il teatro lirico è un grosso snodo delle politiche teatrali milanesi perché si sapeva che era stato destinato alla scala in realtà Boeri ha voluto fare un itinerario molto veloce per parole chiave di quello che è successo è stato fatto un concorso è stato assegnato, è stato vinto questo concorso con un progetto che lui ha definito oneroso e violento rispetto alla struttura del teatro lirico è stato fatto un ricorso che è stato a sua volta in cui a sua volta è subentrata la soprintendenza e il progetto è stato bloccato nonostante siano già stati eseguiti alcuni di questi interventi a detta di Boeri appunto violenti violenti a livello architettonico ovviamente quindi al momento il vincitore non ha più alcun diritto sullo stabile ci sono in ballo alcuni possibili altri progetti con costi di circa 15 milioni di euro bisognerà aspettare ancora per capire la destinazione d'uso poi l'ultimo punto quello di stato menzionato appunto questa possibilità di collegare la creatività, la produzione creativa di Milano in particolare le scuole con le imprese e con il concetto di cittamondo quello secondo il quale appunto Milano è un cocervo come tutti sappiamo di culture diverse con le quali appunto anche la produzione creativa può e deve dialogare quindi verrà probabilmente diramato verrà fatto un bando per scuole di design relativo alla progettazione di nuovi spazi o nuovi oggetti che in questo momento a Milano mancano diciamo che questi sono stati i punti nodali nelle prossime commissioni è stato annunciato che verranno presentati quando saranno nominati i direttori dei vari settori sottosettori dell'assessorato alla cultura e quindi rimaniamo in attesa e vi aggiorneremo ciao 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 ciao